Importante però precisare che quando parlo di oggetto teorico mi sto riferendo a qualcosa che non sarebbe reale, come quando uno dica prima o poi esisterà una comunicazione in cui colui con cui comunichi appare tridimensionalmente in una specie di ologramma tipo come succede in Guerre Stellari, in ipotesi che questa cosa attualmente ancora non ci sia, io non lo so, mi pare di no, uno potrebbe dire che questa ancora solo una possibilità teorica non esiste nella realtà. Ecco, non è in questo senso che io parlo di oggetto teorico, l'oggetto teorico di cui parlo io, che sia il capitalismo, che sia il cambiamento climatico, che sia la società che condiziona le vite dei singoli, sono oggetti ben reali, sono oggetti ben reali, soltanto che sono oggetti riscontrabili nella realtà attraverso un apparato concettuale e un'indagine che non è dell'ordine dei concetti grazie a cui riconosciamo una tazzina, una palla, un cane. In entrambi i casi ci sono dei concetti al lavoro grazie a cui riconosciamo delle cose, grazie a cui identifichiamo delle cose, ma in un caso è sapere dell'esperienza, è un riconoscere oggetti nel campo esperienziale, l'altro invece è un'identificazione di fenomeni che richiede l'uso di una teoria elaborata. Dunque, per adesso quello che dicevo è che sono oggetti ben reali, non esistenti. La differenza tra oggetto esperienza e oggetto teorico non è tra oggetto reale e oggetto non reale, sono entrambi oggetti reali e sono modalità diverse di conoscerli e come dicevo prima, più esattamente di integrare l'informazione ad essi relativa. Seconda precisazione che volevo fare è che l'oggetto d'esperienza, oltre che non essere l'unico oggetto reale, ovviamente non va nemmeno identificato con l'oggetto percettivo. Certamente molto spesso gli oggetti d'esperienza sono anche oggetti che percepiamo, quindi sono oggetti materiali, diciamo così, di media grandezza, con cui entriamo in un rapporto anche percettivo, che sia un oggetto immateriale come un libro, che sia un animale, che sia un'altra persona. In realtà, però, nell'accezione che sto usando, oggetto d'esperienza o termine di un'esperienza, può essere anche una realtà non strettamente percettiva. Ecco, questo forse, per quanto strano possa sembrare, è un punto che conviene chiarire. E lo farò con un esempio forte, invece di prendere come esempio, termine di un'esperienza, un'altra persona, che è l'esempio più profondo. Più profondo è l'esempio più profondo tra quelli immediati, perché è chiaro che si può fare l'esperienza di una palla, però la palla è difficile che ti sorprenda. Un animale già di più, un cane, un gatto, ma certamente la persona è il termine di un'esperienza, di una delle esperienze più complesse che si possono fare. Invece, prenderò come esempio Dio, per qualcuno che sia credente, naturalmente. Allora, per qualcuno che sia credente, Dio è un oggetto di esperienza, nell'accezione che sto usando, anche se evidentemente non è un oggetto da percezione. Perché? Perché ci si può rivolgere a Lui. Si entra in rapporto con Dio in modalità che sono quelle che fanno parte, non dico che siano le uniche, ma fanno parte del nostro spazio esperienziale, del nostro mondo vitale. Detto altrimenti, Dio, per qualcuno che crede, è un soggetto a cui ci si rivolge, che si invoca, che si prega, che si può anche bestemmiare. Ecco, quindi il punto adesso qui non è il credente pietoso, può anche essere colui che lo critica, che lo bestemmia, ecco, come può accadere con Giobbe. Però è sempre il termine di una modalità di relazione che può essere contestata. Ecco, questo è il punto, no? Il termine di un'esperienza è una realtà che raggiungiamo in una certa maniera, per esempio con la preghiera, ma che possiamo anche raggiungere in un'altra maniera, con la bestemmia. Vuol dire che non è definito dalla modalità in cui lo raggiungiamo, no? Ecco, esattamente come un amico può smettere di essere un amico e diventare qualcuno di cui non ci fidiamo più. Non era costituito dalla modalità amicale con cui lo incontravamo. Era incontrato con quella modalità, ma non si riduce a questa modalità. Per questo può diventare il termine di un'altra modalità di relazione. Smette di essere un amico, diventa qualcuno di cui non mi fido più. Ma è sempre lui, o sempre lei. Smette di essere la persona che amavo, diventa una persona che non sopporto. O smette di essere una persona di cui non mi fidavo e diventa un'amica sincera. Ecco, questa cosa vale anche per un realtà non percettivamente individuabile come può essere Dio. Nel caso di un oggetto teorico la cosa è molto più complicata, no? Certamente abbiamo detto che ha una realtà, ma è, quindi non è istituito dalla teoria, e tuttavia appare all'interno di quello sguardo teorico. È un oggetto teorico in questo senso, nel senso che è un oggetto reale, individuabile, grazie a un apparato teorico. Non è un qualcosa con cui entriamo in un rapporto che possiamo contestare e modificare. Ecco, spero che queste due premesse incominciano a far vedere in che senso ecco, il quadro di problemi entro cui dobbiamo muoverci. Ma dicevo prima che la parola da seguire, che fa un po' da filo conduttore, quella da tracciare per chiarire meglio, è quella riconoscere. Riconoscere, riconoscersi. Ecco, il riconoscere anche nel senso di riconoscersi. Riconoscere, riconoscere, riconoscere.